Ciao a tutti ragazzi, sono Dily05 In questo nuovo video giocheremo a Copa Toon è un gioco adatto anche per i più piccoli dove ci sono questi personaggi Nel gioco di calcio Qua dobbiamo scendere Scegliamo la squadra Scegliamo... Scegliamo ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 No... Grazie a tutti.